Allora, buongiorno. L'argomento di questa mia chiacchierata conversazione è il rapporto tra l'America e l'Europa e anche viceversa, tra l'Europa e l'America per quanto riguarda la cultura e l'arte, ma nella fattispecie sarà l'argomento che trattiamo il cinema. L'altra volta, qualche tempo fa, abbiamo parlato di Billy Wilder, altro emigrante che da Vienna si trasferisce negli anni venti a Berlino e poi giunge in America, dove, diciamo, è un portatore, è un messaggero di sensibilità culturali squisitamente europee nell'ambito del cinema olivudiano. Ma prima di lui compie lo stesso percorso, quello che lui considera il suo maestro, ovvero Ernst Lubitsch. Lubitsch forse è celebre presso il grande pubblico, soprattutto per due film. Il primo, secondo me, un film del 1939, è Ninochka, interpretato da Greta Garbo. Ebbe successo perché questo film fu rifatto, ci fu uno dei remake, addirittura ci fu un musical, ecco, su Ninochka, di cui poi parleremo. E probabilmente Lubitsch si ricorda, anche nella storia del cinema, in primis, per aver girato nel 1941, uscendo nei primissimi mesi del 42, vogliamo vivere, to be or not to be, che è una satira contro il nazismo, con i tedeschi che hanno invaso la Polonia, ecco, nel 39. E questo è l'argomento che poi in seguito tratteremo. Ora, Lubitsch non è un viennese, come molti registi che raggiungono Hollywood. Penso appunto a Billy Wilder, ma penso prima di lui anche a Eric von Stroheim, a von Stemberg. E dopo, invece, a partire dal 30, con l'avvento di Hitler, al potere, penso a registi come Fritz Lang. Lubitsch, invece, è un tedesco, è un berlinese. Nasce nel 1892 e muore nel 1947 a Hollywood. Quindi muore giovane, diciamo, per la nostra considerazione di oggi, a 55 anni, iperproduttivo, gira moltissimi film. E il suo esordio avviene proprio a Berlino, invece, cioè nella città natale. Lubitsch appartiene a una famiglia, appartiene a una famiglia ebraica, che gestiva un emporio di stoffe. E Lubitsch, bambino, ragazzino, farà il commesso in questa azienda, in questa azienda paterna. Diciamo che il negozio e il commercio è qualcosa che serpeggia qua e là nel cinema di Lubitsch, no? Fino poi ad arrivare a ispirare un film del 1940 che si chiama Scrivimi fermo posta, che è ambientato a Budapest e rappresenta proprio un emporio. Un emporio dove si vendono articoli da regalo, soprattutto, e questo emporio rappresenta un universo da cui i personaggi sembrano non poter uscire, ma sono anche contenti di non poter uscire da questo universo. Tutto si consuma lì, anche la peripezia sentimentale avviene attraverso i banchi di questo emporio su uno dei corsi principali di Budapest. Ora, perché dico tutto ciò? Perché le prime esperienze cinematografiche di Lubitsch, diciamo, attorno agli anni, anzi durante, gli anni della prima guerra mondiale, diciamo, tra il 14 e il 18, contemplano un Lubitsch giovanissimo attore che fa proprio, che crea un personaggio comico ed è il personaggio del commesso, del giovane venditore. Magari un po' maldestro, ma simpatico e soprattutto sessualmente precoce, uno che si dà molto da fare, ecco, con le signore, magari vende scarpe e quindi si inginocchia davanti a queste donne che lui considera meravigliose e quindi c'è una specie di scarto comico tra le intenzioni e la possibilità che poi tutto ciò possa avere, diciamo, un buon fine. Tra l'altro, ecco, questo elemento del giovinetto, cioè del giovane magari con i pantaloni corti, ma che però ha, diciamo, un desiderio, un desiderio molto appunto precoce e sviluppato, lo ritroviamo anche in altri registi di origine ebraica, per esempio, per esempio in Woody Allen, no? Quando in Henry Hall, che è un film del 77, il protagonista bambino, Alva Singer, bacia una bambina all'elementare, no? E viene stigmatizzato, viene considerato addirittura un sudicione, va bene? E poi anche in Billy Wilder, proprio nel suo film più celebre, cioè a qualcuno piace caldo, troviamo un boy, un ragazzo dell'ascensore, che cerca in tutti i modi di insidiare Jack Lemmon travestito da donna considerandolo una magnifica preda, e il che naturalmente fa ridere e usava la cravatta farfalla con l'elastico, ecco, per evidenziare il suo desiderio irrefrenabile, no? E pensa di fare delle cennette romantiche, però è un bambino, un ragazzino che aspira a qualcosa, diciamo, di più grande di lui, diciamo così. Ora, naturalmente, prima di questa esperienza, naturalmente, poi si capirà perché dico in maniera apparentemente impropria, Lubitsch frequenta l'Accademia, il teatro di Max Reinhardt, ora non si sa poi se è vero o non è vero, eccetera, perché? Perché quasi tutti gli attori tedeschi, o anche in parte anche i registi, vantano di essere stati degli allievi di Max Reinhardt, un po' che era il più grande regista teatrale presente a Berlino, un vero mago della scena, anche lui si trasferirà poi a Hollywood con l'avvento del nazismo. Un po' come in Italia, nel secondo dopoguerra, chi è che non poteva scrivere nella sua biografia che aveva lavorato con Visconti o con Strayler? Ma bene, ecco, per i tedeschi di quell'epoca era il rinunciato, anche la Dietrich riconosce, ricorda di avere lavorato con Max Reinhardt. Diamolo per buono, ecco, per vero. Però il primo film, diciamo, importante, il primo film, è vero, di Lubitsch, la sua grande occasione, avviene nell'immediato, primo dopoguerra, nel 1919, quando gira Carmen. Ora, Carmen è un film su cui indugiare un attimo, perché? Perché noi dobbiamo considerare la sensibilità, il comune sentire dei tedeschi nel 1919, dopo essere stati terribilmente sconfitti e umiliati. Ora, c'è un baratro tra la Francia e la Germania, eh? Pensate alla Germania che considera i francesi i più rapaci, e i più esigenti per esigere le riparazioni di guerra. Ehm... E girare a Berlino un film su Carmen, che nonostante l'ambientazione, diciamo, esotica e spagnola, è un monumento della cultura francese, dalla novella di Merimè a, naturalmente, l'opera di Bizet, che tutti conosciamo, poteva quasi risultare una provocazione. Eh non so quanto Lubitsch possa avere pensato che forse Carmen potesse essere un cinema della diplomazia, ecco, per avvicinare i popoli e non per distanziarli. Però forse, forse c'è, c'è, può esserci del vero, ehm, in, in questo. Tra l'altro, Lubitsch descriverà la Germania del primo dopoguerra, ehm, con gli anni, eh, dell'inflazione. Lo descriverà in un film del 1930, che forse è l'unico suo film drammatico, no? I film di Lubitsch sono quasi tutti operette, commedie, il suo tocco è leggero, non ha, non ha la pesantezza, la gravità, che so, di Fritz Lang, ecco, di, o di Murnau, no? Ehm, questo film di cui parlo, in cui ritrae la Germania, eh, negli anni dell'inflazione, intorno agli anni venti, nel ventidue, eccetera, eccetera, ehm, si chiama L'uomo che ho ucciso. Ed è, eh, un film tratto da un romanzo di Maurice Rostand, che è il figlio di Edmond Rostand, il quale era all'epoca abbastanza famoso perché apparteneva a quel gruppo di pacifisti, ehm, durante, come Romain Roland, come Barbus, eccetera, e tanti altri, no? Che, ehm, deploravano, come anche Stefan Zaidi, un vecchio austriaco, che deploravano, eh, la guerra, no? E molti di loro, eh, si erano poi rifugiati in Svizzera, no? Come Romain Roland, e da lì, eh, ma lanciavano i loro messaggi assolutamente pacifisti. Ora, mh, il film di Lubitsch è un film assolutamente pacifista, in cui viene descritta la figura di un, di un francese, che nella vita civile fa il musicista, quindi un artista, che ha ucciso in una trincea un tedesco, scoprendo che quest'uomo che ha ucciso, anche egli è un musicista. A fine guerra, preso da un terribile rimorso, da un terribile senso di colpa, va in Germania, in un paese, eh, tedesco, dove ricerca la famiglia dell'ucciso. Lo trova, e attraverso una storia che sintetizzo, riesce forse a ottenere il perdono, e addirittura ad essere assunto come figlio da Lionel Barrymore, che è il patriarca, il nonno della famiglia, il quale, peraltro, alla fine lancerà un jacuzzi risentitissimo contro la follia della guerra, no? Sono anni in cui si coltiva, sto parlando del 1932, eh, un po' l'illusione del pacifismo, e quindi Lubitsch, diciamo, rende omaggio anche a questa nobile diplomazia, a questa nobile politica, che poi sapremo invece come andrà a finire, dopo pochissimi anni, a partire dalla guerra di Spagna, che è una prova generale della seconda guerra, della seconda guerra mondiale. Ecco, Lubitsch, tornando al primo film, a Carmen, ecco, in qualche modo contrasta un altro monumento, contrasta un monumento invece della cultura tedesca in quel momento, e cioè, diciamo, Thomas Mann, no? Thomas Mann, negli anni della guerra, scrive un libro che si chiama Considerazioni di un impolitico, di cui successivamente si vergognerà, cercherà anche di impedirne un po' la diffusione, in cui, naturalmente, da tedesco, più o meno patriottico, fa una celebre distinzione tra la cultura tedesca e la civilizzazione francese, ovvero, la cultura tedesca prevede di avere una grande anima, uno spirito tedesco. La civilizzazione francese, invece, discende dalla rivoluzione francese, è razionalista, è democratica, va bene, è giacobina anche, no? Non è poi, per esempio, per quanto riguarda l'arte, c'è una distinzione molto netta tra la poesia e la letteratura. La letteratura è francese, la poesia, ovvero l'anima, il lavoro, in prima persona, invece, è tedesca. Ora, che un berlinese tedesco, nel 1919, va bene, faccia un film su Carmen, che, invece, è l'apoteosi, diciamo, un po' del gioco francese, no? Della civilizzazione, se volete, francese, del guardare anche agli altri, ai diversi, va bene, con un occhio di enorme simpatia e considerazione, cioè gli spagnoli. E, d'altra parte, è impossibile non fare riferimento a Nice, il quale, a un certo punto, diventa anti-wagneriano, cioè interprete del grande spirito, della grande anima tedesca, preferendo la Carmen di Bizet, così solare, mediterranea, facile, semplice, con i sentimenti che si esprimono direttamente, anche con una stupenda violenza. Ecco, appunto, Carmen contro Wagner, contro le brume nordiche, il mondo nibelungico, non lo so, questa anima continuamente arrovellata, eccetera, eccetera. No, la Carmen è semplice, è tagliente come una lama. Ora, l'Ubice, Carmen, però è un colossal, è un film molto, cioè, che impegna molte risorse e l'Ubice si affermerà inizialmente come una specie di Griffith americano, il quale gira dei film storici con moltissime comparse, con decor, con scenografie molto suntuose, no? Per esempio, gira un film che è Madame du Barry, va bene? Madame du Barry, quindi la favorita di Luigi XVI, con tutta la sua traversia, va bene? Da prima donna, forse, del regno, agghigliottinata durante la rivoluzione francese. Poi gira anche un'Anna Bolena, per esempio, quindi film storici di grande impegno, con un Enrico VIII interpretato dal più grande attore dell'epoca, che era Emily Annings, così come le parti femminili venivano affidate alla più grande attrice dell'epoca tedesca, che era Pola Negri, si chiamava Negri, in omaggio, è una cosa curiosa, alla nostra Ada Negri, va bene? Una poetessa che forse pochissimi oggi possono ricordare, non lo so, però è curioso questo fatto. Oppure gira dei film estravaganti, esotici, mille e una notte, va bene? Materiali che vengono ricavati e riciclati dalle mille e una notte, che è Sumurum, dove c'è sempre Pola Negri. Ed effettivamente Sumurum era un testo come pantomima, soprattutto, che era stata fatta da Max Reinhardt, e quindi in questo senso si potrebbe avvalorare l'ipotesi che davvero Lubice sia stato un allievo di Max Reinhardt. Forse i più interessanti per il nostro discorso che ci dovrebbe portare alla commedia, all'invenzione, si può dire, senza esagerare, della commedia sofisticata, o comunque di un cinema comico, leggero, apparentemente leggero, più significativo, dicevo, sono i due film, due farse, anzi uno sicuramente una farsa, l'altro magari un po' meno, che sono la principessa delle ostriche e la bambola di carne. Interpreti di questo film sono un'attrice del tutto diversa rispetto a Pola Negri, che è un interpreta di grandi drammi, una figura così plasmata tutto tondo nel dramma e nella tragedia. Ossio Osvalda invece è un'attrice brillante, sbarazzina, molto infaticabile, intraprendente, quindi che riesce sicuramente simpatica al pubblico. La bambola di carne è un girato, nell'immediato dopo guerra, siamo sempre nel 20, ecco, dobbiamo immaginare che siamo reduci del 19 da tentativi rivoluzionari, pensate a Rosa Luxemburg nel 19 a Berlino, o pensate alla Repubblica dei Consigli, diciamo di tipo sovietico, in Baviera, finiscono tutti in bagni di sangue. Questo perché lo dico? E poi ci sarà l'inflazione sempre più montante fino ad arrivare agli estremi nel 1922. Perché dico ciò? Perché bisogna considerare che il pubblico che probabilmente non viveva una vita normale, tranquilla, doveva essere sicuramente allarmato, chi in un modo, chi in un altro, eccetera, forse aveva bisogno di andare al cinema e di distrarsi. E si poteva distrare o con i grandi colossal storici e quindi lontanissimi dalla fenomenologia quotidiana del tempo, oppure con dei film comici che magari anche ambientati nel tempo presente. Ecco, la principessa delle ostriche è una satira del tempo presente perché Ossio Svalda è la figlia del re delle ostriche che è gelosa della figlia del re dei lucidi da scarpe e che si è sposata. Cosa significa ostriche e fare i soldi, essere molto ricchi attraverso le ostriche e i lucidi da scarpe? Significa fare la satira ai pescecani, ovvero coloro che si erano arricchiti, come sappiamo, durante la guerra e anche nel dopoguerra. Se produci calze di lana probabilmente, non ti dico che vendi quanto Krupp, ma i soldati non hanno bisogno soltanto di baionette o di fucili, ma hanno bisogno di calze di lana e quando mai tu riesci a vendere migliaia e migliaia e migliaia di calze di lana? Faccio per dire, magari non mangiano le ostriche, però il lucido da scarpe invece sicuramente ai soldati deve essere venduto, insomma, perlomeno per quando vanno in licenza. Ora, quindi c'è una satira dell'iperbolica ricchezza, così viene rappresentata, del pescecanismo, che poi pensate anche a tutta l'iconografia di Groz, dove c'è tutta questa, anche in Brecht, e c'è questo ritratto impietoso, giustamente impietoso nei confronti di questo fenomeno. Però, d'altra parte, c'è anche una satira dell'americanismo, perché l'andamento indiavolato, il ritmo indiavolato del film è dato dal Foxtrot. arriva il Foxtrot ed è una sorta di epidemia, di delirio, di ballo di San Vito, ecco, per cui tutti i personaggi si muovono in una forma chiaramente marionettistica, vivace, al ritmo del Foxtrot, quindi sembra un po' una satira di di un incipiente impero americano che fa le prime prove, diciamo, sulla popolazione, non tanto, non parlo tanto della politica, attraverso la moda, attraverso la moda della maschetta, per esempio, la moda delle gonne corte, del fumare, dell'emancipazione femminile, per esempio, perché la nostra principessa delle ostriche pretende in un giorno di trovare un marito, un marito qualsiasi, perché si è sposata l'amica, quella dei lucidi da scarpe, purché però sia un principe e quindi c'è un negozio, c'è un emporio, va bene, come oggi, non so, l'immobiliarista, no, che ha le chiavi e ha dei cassettini per aprire le chiavi degli appartamenti in vendita, c'è una specie di sensale di matrimoni di matrimoni che ha la possibilità, che ha a disposizione, per esempio, dei tipi di nobili, anche di principi, assolutamente in miseria, va bene, per cui alla fine verrà reclutato questo, ma dicevo, diciamo, l'emancipazione femminile è quasi scandalosa per l'epoca, perché, forse anche per l'opera, perché quando finalmente lei fa un matrimonio fastosissimo con decine di cavalli che tirano la carrozza, super kitsch, una esibitissima volgarità data dal denaro, dicevo, quando nella prima notte di nozze in realtà lei va a letto con un altro, ecco, oppure fa box, ecco, la maschietta con delle altre, con delle altre donne per contendersi un bell'ubriaco per la strada, un nottambulo, va bene, che poi lei si porterà effettivamente a letto, quindi capite dove stiamo andando. non sono film che molto, diciamo, attenti a una eventuale possibile censura e Lubitsch, forse tutto il cinema di Lubitsch potrebbe, soprattutto quello americano, potrebbe essere interpretato anche come un gioco a nascondino, va bene, contro, per essere, per passare inosservato agli occhi attenti della censura. È un cinema di distrazione, va bene, distrazione nel senso della censura, per distrarre la censura attraverso, attraverso dei, degli espedienti filmici particolari su cui magari poi torneremo. Ora, questa, sicuramente, Lubitsch conquista una certa fama che voi non ritrovate però nelle grandi storie del cinema tedesco tipo Krakauer, non so, cinema tedesco dagli anni venti fino al sonoro. Cioè, Lubitsch non è considerato come Murnau, come Robert Wiener, cioè non gira al gabinetto il dottor Caligari. Insomma, tanto per capirci, non gira Mabuse come Fritz Lang, non gira Anno Sferatu, ovvero dei film espressionisti come ehm come Murnau, mh si specializza o nel cinema storico, diciamo dei polpettoni storichi, diremmo con dispregio, oppure in in un cinema brillante, ovvero il cinema che la gente va a vedere, un cinema che tiene sempre presente il pubblico. In fondo il cinema di Lubitsch potrebbe essere raffigurato come un triangolo al cui vertice c'è il regista eh e agli angoli e agli altri angoli sotto eh c'è il film ma accanto c'è il pubblico e il pubblico deve essere assolutamente considerato. Lubitsch non ha mai fatto i film per se stesso, ha sempre fatto i film per noi forse per questo motivo che viene chiamato a Hollywood nel 1922 da una celebre attrice americana che è Mary Pickford ora la Pickford che come sappiamo era considerata nell'immaginario degli americani al fronte la fidanzatina d'America va bene non era Ted Abara non era non so Gloria Swanson ovvero delle vamp ecco o così vuole la leggenda non lo so comunque Mary Pickford così liliale così pallida fanciulla un po' vittoriana ma anche se poi spiritosa talvolta divertente eccetera eccetera Mary Pickford era diventata però una produttrice di film in un sodalizio olimpico direi insieme a Griffith e a Charlie Chaplin avevano costruito una casa di distribuzione ma anche di produzione si chiamava la United Artists per cui la Pickford sapeva quel che faceva e poteva farlo chiamando il Griffith tedesco ovvero Lubitsch in America per rifare una sorta di Griffith ora perché perché vengono chiamati i registi europei negli Stati Uniti evidentemente perché la sensibilità del pubblico stava cambiando i film con cui aveva debuttato Hollywood negli anni dieci erano inattuali dopo la guerra ovviamente no c'è la guerra è un acceleratore della storia purtroppo però è evidente che dopo una guerra noi non saremo mai più quelli che eravamo prima della guerra magari anche si potrebbe anche desiderare ma questo è praticamente impossibile vi faccio un esempio di mutamento di sensibilità che presuppone quindi eh l'importazione di valori o di elementi europei pensate ad esempio ai sex symbol nel in particolare il sex symbol non tanto femminile quanto maschile chi è il più adorato divo degli anni venti nel cinema americano è Rodolfo Valentino cioè un pugliese va bene uno che è nato in Puglia italiano che poi si trasferisce a Parigi e poi arriva a New York e poi a Hollywood in cerca di fortuna un emigrante ora se l'uomo americano nel cinema preguerra era decisamente il bianco anglosassone protestante che va al college gioca a football americano a baseball è sano salutista fa il barbecue va bene con gli amici e non è necessariamente un seduttore come suo primo istinto va bene piace piace perché è bello Valentino rappresenta un modello maschile totalmente diverso non solo perché è italiano chissà forse anche spagnolo boh io pubblico americano non è che sappia così tanto distinguere è comunque una bellezza latina mediterranea ma poi direbbero gli uomini gelosi che orrore alla brillantina porta una gardenia sullo smoking è un nottambulo è probabile che si faccia di cocaina allora se l'eroe americano yankee o wasp è diurno Valentino è un eroe notturno va bene è l'uomo con cui tutti vorrebbero andare a letto non è il compagno di una vita e questo evidentemente segna cioè il sintomo di un cambiamento enorme nella sensibilità quando Valentino muore nel 1926 dopo aver girato tra l'altro pochi film succede il finimondo altro che funerale di stato ci vuole la polizia a cavallo per sedare per le strade a New York la folla di donne qualcuna addolorate va bene che possono fare qualsiasi cosa pur di avere un ricordo una ciocca di capelli di Valentino non lo so un ricordino ora l'ubice quando arriva quando arriva a Hollywood si produce anche nel nel film storico ad esempio si accompagna sempre a Polanegri a Emiliannis anche loro importati dalla Germania e ad esempio Emiliannis interpreta da par suo da mattatore da gigione qual era meraviglioso gigione interpreta la parte dello zar Paolo I ovvero lo zar folle va bene e d'altra parte Polanegri interpreta la zarina va bene una zarina vedi un paese un po' ideale eccetera però però l'ubice comincia invece a occuparsi anche di diciamo di un cinema leggero comincia a fare una specie di di operetta anche se muta oppure un cinema che contiene appunto il tema della leggerezza di di estrazione assolutamente esquisitamente europea ora se noi prendiamo un un regista di lingua tedesca anche se austriaco come come Erik von Stroheim noi ci accorgeremo che Stroheim guarda dall'America quando riesce a fare il suo primo film nel 1919 che è mariti ciechi guarda sempre all'Europa non solo all'Europa genericamente ma soprattutto all'Austria quindi è una specie di nostalgico del mondo asburgico qualcosa che potrebbe assimilarlo a Roth se vogliamo talvolta anche a Schnitzler se volete non lo so è un nostalgico di quel mondo e infatti non so Donne Viennesi un film maledetto sicuramente un film muto però un film con delle fortissime traversie la parte non tanto della censura che di fatto non c'era all'epoca quanto piuttosto con i produttori genio esregolatezza Stroheim oppure ritrae sempre un mondo in decadenza dopo la prima guerra mondiale che però vive a Monte Carlo va bene quindi in luoghi lussuosi ovvero il cinema di Stroheim come peraltro sarà anche il cinema di Lubitsch anche se in maniera totalmente diversa come toni e come diciamo generi cinematografici è un cinema della distanza che cosa intendo dire è un cinema che non vuole avvicinarsi allo spettatore in quanto vita dello spettatore lo spettatore va al cinema lo spettatore americano negli anni venti e soprattutto dopo la crisi del 1929 va al cinema per vedere delle storie e dei personaggi che sono assolutamente distanti da lui ovvero dalla sua grama vita quotidiana o invece euforica prima del 29 quindi il sogno hollywoodiano in qualche modo che la fabbrica dei sogni si regge proprio su questo principio che il cinema non deve mai contenere lo spettatore lo spettatore deve essere distante così come gli attori o i personaggi devono essere distanti dall'ospettatore e questo costituisce un fascino assolutamente irresistibile Lubitsch diversamente da Stroheim fa questo cinema della distanza ma senza drammaticità ossessione perversione come invece troviamo largamente rappresentati tutti questi aspetti nel cinema nel cinema di Stroheim deviazioni è un cinema da una parte realistico dall'altra parte è un cinema barocco invece è assolutamente visionario Lubitsch non è un tormentato un provocatore come Stroheim al quale infatti andrà sempre malissimo nella storia del cinema sarà sempre un perseguitato dai produttori però però diciamo che Stroheim vive un po' nel mondo in un mondo del cinema muto in cui probabilmente tutto era era possibile Stroheim non riesce a passare la soglia che divide il muto dal sonoro quando il cinema cambia radicalmente proprio nelle sue strutture profonde produttive Stroheim vive ancora nel pionierismo del cinema muto dove tutto praticamente era possibile dove non esistevano nemmeno i generi è difficile dire a quale genere appartengono i film di Stroheim mentre è molto facile invece etichettare i film di Lubitsch va bene come commedie come film operetta come film musicale come commedia sofisticata ora Lubitsch gira alcuni film ora devo stringere perché mi sembra anche il tempo stia passando gira alcuni film vi faccio soltanto un esempio il ventaglio di Lady Windermere che è un testo famosissimo di Oscar Wilde ora va bene che Oscar Wilde aveva fatto come dire una tournée autopromozionale in America ed era conosciuto perché in fondo è un po' un oggetto un uomo oggetto di scandalo il suo dendismo eccetera però però cimentarsi con un teatro di pura conversazione e quindi un teatro fortemente salottiero nel muto non era facile perché? perché tutto quello che è detto a teatro deve essere trasformato in fatto cioè in azione in gesto e Lubicz nel cinema muto fa esperienza di questa capacità di visualizzare il senso ehm che molto più facilmente viene veicolato attraverso la parola il cinema muto è materiale si deve vedere io non vado non riesco a entrare dentro la psicologia dei personaggi se non attraverso quello che fanno in maniera pantomimica allora Billy Wilder ehm quando diceva non so come risolvere questa scena come faccio mi venga in aiuto la memoria di Lubicz quando non so cosa come cavarmi la penso sempre a Lubicz e rammenta una una sequenza eh della vedova allegra per cui siamo a questo cinema operito ovviamente Lubicz fa lo fa anche la vedova allegra però nel periodo sonoro cioè negli anni trenta con Cevalier e Jeanette McDonnell nella vedova allegra di Lubicz c'è un re e una regina che sono a letto è mattina il re si alza si veste ed esce fuori dalla porta ehm c'è un un giovane ufficiale che è il conte Danilo eh il quale alza la spada in saluto del del re il re scende le scale e dopo un po' si accorge di non avere il cinturone con con la spada allora ritorna indietro entra in camera da letto ma e qui è la genialità di Lubicz questo è il muto Lubicz però non ci fa vedere che il re entra nella camera da letto ce lo fa vedere invece che esce dalla camera da letto con il cinturone e la spada scende le scale e cerca di allacciarsi il cinturone e scopre che non è il suo questo cinturone perché è troppo stretto lui ha la pancia va bene quindi ritorna indietro ritorna in camera da letto e scopre che sotto il letto c'è il giovane ufficiale c'è 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 scevalier sotto il letto ecco è una scena muta è una scena del film del mondo ma per significare l'adulterio gli elementi fallici della spada eretta del giovane mentre il re la spada non ce l'ha se l'è pure dimenticata eccetera eccetera e naturalmente la regina si giustifica poi nel dialogo dicendo che stava provando scevalier perché non per piacere suo ma per fargli compiere una importante missione diplomatica che è quella di sedurre la ricca vedova allegra va bene che nel film si chiama Sonia e non Anna in modo tale da salvare le traballanti anzi disastrose finanze dello Stato di questo Stato operetta vagamente mitteleuropeo forse balcanico non so ora arriviamo al cinema al cinema sonoro invece nei primi anni venti nei primi anni trenta pardon Lubitsch gira molte molte operette per esempio il principe consorte un'ora d'amore un'ora d'amore è un film ambientato a Parigi ma in realtà tratto sempre da un'opera di uno scrittore austriaco che era ambientato inizialmente a Vienna tanto che lui gira anche una prima versione muta ambientato a Vienna e la protagonista femminile si chiama Mitzi insomma si chiama Parigi però sopravvive un nome femminile tipicamente austria la contessina Mitzi non so che snitzler usa questo non so e sono dei film musicali per cui ha bisogno di uno chansonnier europeo ancora una volta ecco come Valentino abbiamo abbandonato Valentino subentra un nuovo tipo di seduzione più parigina sorridente non tormentata e fosca come quella tenebrosa come quella di Valentino notturna ma invece molto solare come quella di Chevalier con quella con quella sua prestanza fisica e quella naturale simpatia e Jeannette McDonnell che è un soprano leggero che che le fa costantemente da partner e i film saranno ambientati a Parigi a Monte Carlo eccetera ora però l'operetta il film operetta è un genere che in Lubic rappresenta un percorso per passare invece alla commedia sofisticata cioè a un cinema molto più impegnativo e soprattutto nuovo rispetto all'operetta che ha una lunghissima tradizione di tipo di tipo di luoteatrale ovviamente diciamo che i film più significativi di Lubic sono quelli che lui gira a partire dalla prima metà degli anni venti e che arrivano fino alla sua morte fino al 1947 ora dobbiamo fare però una piccola considerazione sulla censura Hollywood nel si era già dotata nel 1919 di un'associazione produttori e distributori per razionalizzare il mercato un po' caotico e improvvisato dei film di hollywoodiani e a capo di questa associazione aveva messo un signore che si chiamava William Hice il quale peraltro era stato un ministro delle poste ma aveva accettato questo nuovo incarico un po' non si sapeva che fine avrebbe fatto però sicuramente guadagnava dieci volte tanto rispetto alla sua carica di ministro Ice immagina che guardando ad esempio come facciamo un esempio che abbiamo fatto guardando agli scandalosi film di di Stroheim dove non so in Queen Kelly addirittura il protagonista diciamo si sofferma a diciamo delibare le mutande di Gloria Swanson è una cosa inconcepibile nel film successivo poteva prendersi queste libertà essendo maledetto per definizione Ice in carica degli diciamo degli intellettuali se vogliamo non so cattolici per stendere quello che poi viene verrà chiamato il codice Ice cioè che cosa si può vedere cosa non può non vedere al cinema nel cinema hollywoodiano e quando c'è di mezzo la censura in America i veri specialisti nel censurare sono sicuramente i cattolici non i protestanti tanto meno gli ebrei ma sicuramente sono gli veri specialisti in questo nel misurare la lunghezza di un bacio o la lunghezza di una gonna o di un reggiseno sono sono sicuramente i cattolici tanto addirittura i gesuiti perché o comunque ciò che appartiene un po' al cotè gesuitico perché il signore che si incarica materialmente di stendere il codice Ice è un signore che si chiamava Ignatius Brin Joseph Ignatius Brin va bene ed è severissimo è severissimo soprattutto per quanto riguarda devianze sessuali criminalità droga sessualità troppo evidente ed esibita nessuno può farsi vedere a letto con un uomo con una donna va bene ma l'omosessualità assolutamente non può essere nemmeno presa in considerazione eccetera eccetera per cui il cinema di Hollywood dovrà lottare per decenni contro questo codice di autocensura perché come sappiamo in America non esiste una censura federale tutto può essere pubblicato tutto può essere diciamo girato è il pubblico che censurerà poi l'opera però a Hollywood invece c'è un codice di autocensura ed è severissimo e occhiuto assolutamente occhiuto per cui i film preventivamente vengono censurati da Joseph Brini il quale deve deve rilasciare praticamente un nulla osta quello che noi in Italia chiamavamo il nulla osta il film al nulla osta statale sì al nulla osta di Giulio Andreotti sottosegretario alla presidenza del consiglio che si occupava di cinema sì va bene allora può può circolare quindi quando io vi dicevo che era una specie di gara a rimpiattino a nascondino con la cessura quella che l'Ubice fa mi riferivo proprio al codice ICE che doveva essere aggirato attraverso degli stratagemmi ora questo codice ICE però entra veramente in funzione solo a partire dal 1934 l'Ubice quindi ha qualche anno di tempo per sbizzarrirsi facciamo facciamo qualche esempio di storia non particolarmente edificanti forse uno dei migliori film di l'Ubice è un film che si chiama Troubling Paradise che in italiano è mancia competente ci sono due grandi comedianti che sanno recitare nel sonoro va bene come come Herbert Marshall e Miriam Hopkins i quali si ritrovano nella prima sequenza a un convegno amoroso meraviglioso naturalmente viennese non sono nel Montana non sono americano ecco si trovano al Danieli mettiamo con la gondola la luna eccetera eccetera loro lui invita lei vestita di lame superba a un certo punto bevono lo champagne si baciano si dicono delle cose meravigliose e poi senza nemmeno staccarsi lui comincia a dire qualcosa io non ricordo bene le battute sì però il portafogli dove è finito cara e lei dice ma la mia spilla di brillanti ce l'hai tu ecco sostanzialmente sono due ladri professionisti i quali si amano e si eccitano derubandosi a vicenda in una delle scene tipiche topiche va bene del della seduzione Danieli Luna Venezia cosa cosa ci vuoi questi due ladri creano un sodalizio e cercano di derubare l'azione si sposta a Parigi una ricca e anche affascinante donna che dirige un'industria naturalmente di cosmetici no quindi vedete dove dove l'azione si colloca e c'è un contrasto sentimentale perché naturalmente il Herbert Marshall il ladro viene sedotto dalla grandama e sedotto dalla grandama finge di fare il cameriere e finge di fare l'autista e totalmente al servizio di questa di questa ricca madame provocando l'irritazione e la gelosia naturalmente di Miriam Hopkins che anche lei si è fatta assumere sempre in un ruolo diciamo di domestica di segretaria eccetera eccetera ora dove 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 è l'elemento nuovo è che un tema tipico del cinema melodrammatico e cioè il contrasto tra amore e dovere per esempio l'amore e il dovere nei confronti della patria qui il contrasto è tra l'amore ovvero tra i due ladri e un dovere il dovere è quello di essere ladri non di amare la patria per cui alla fine del film Herbert Marshall dovrà abbandonare la donna ricca dopo averla naturalmente derubata per obbedire al dovere di continuare a essere un grande ladro un grande ladro internazionale vedete che la morale non c'è qua naturalmente il malvivente per il codice AIS deve sempre finire male mentre in questo caso finisce bene ecco la commedia sofisticata che non è ambientata come l'operetta in un paese immaginario e sicuramente sempre un po' retro ma bene siamo sempre nella belle époque diciamo siamo sempre da Che Maxime e così siamo a Parigi ma invece è ambientata in un'assoluta attualità cioè negli anni trenta qui e ora e agiscono dei personaggi lontanissimi naturalmente che hanno sempre questa enorme distanza da noi e che vivono in un mondo elegante sofisticato appunto raffinatissimo siamo nel trentadue in America per quanto riguarda il mercato americano un'America afflitta dall'inflazione dalla grande depressione quindi è necessario che il cinema acquisti una siderale distanza rispetto al poveraccio che con pochi sente può ancora permettersi di andare al cinema e sognare come vivono i ricchi o come si suppone che vivano i ricchi almeno a Hollywood un altro film un'altra commedia sofisticata è un film che si chiama Design for Living che si chiama Rapporto a 4 in italiano che è tratto da una commedia di Noel Coward peraltro in cui in cui non abbiamo abbiamo un altro triangolo in questo caso c'è solo c'è una donna Miriam Hopkins che è divisa in amore tra Gary Cooper siamo in un ambiente bohemian parigino in questo caso tra Gary Cooper che fa il pittore di non grande successo e Frederick Marsh che fa il drammaturgo di non grande successo ora la faccio breve perché bisogna un po' concludere chi sceglie? dovrebbe scegliere diciamo un terzo per sposarsi e così fa che naturalmente non è paragonabile a questi due uomini che lei dice chiaramente che per lei sono seduttivi in che senso? Gary Cooper è seduttivo down 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 e cioè dalla cintura in giù per le sue doti naturalmente c'è Gary Cooper mentre Frederick Marsh è seduttivo per le sue doti up 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 e cioè dalla cintura alla testa perché è un intellettuale ma non è un istinto allo stato puro come invece il pittore Gary Cooper ora il dilemma non è tanto quello di sposarsi un altro o di abbandonarlo quando è il caso uno scemo naturalmente sposo ma il problema è chi scegliere dei due e nel finale del film è assolutamente evidente che lei non sceglie nessuno dei due cioè li prende tutti e due perché fanno un uomo ideale naturalmente l'uomo ideale non c'è si può solo fare un montaggio diciamo di parti ideali di uomini va bene i quali poi faranno l'uomo ideale in questo caso questa specie di meraviglioso irco cervo è dalla cintura in su Frederick Marsh che infatti è un grande attore di teatro Frederick Marsh un uomo colto e l'incolto ma assolutamente irresistibile anche Gary Cooper quando Billy Wilder diceva Gary Cooper non aveva assolutamente bisogno di sedurre nessuno si sedeva in un salotto gremito di persone in particolare di donne non parlava non diceva niente non intratteneva nessuno perché bastava guardarlo e tutte se lo volevano portare a letto quindi non faceva assolutamente nessuno sforzo ora veniamo ai film invece della della seconda metà degli anni trenta un film veramente anomalo che non si capisce come non sia stato perseguitato dalla dalla censura è Angelo Angelo è un film interpretato da Marlene Dietrich e sempre da Herbert Marshall e da Melvin Douglas c'è l'attualità come dicevo che la comedia sofisticata si affida a un'attualità qui addirittura c'è un'attualità storica che è il mondo della diplomazia frenetica in Europa e non solo nel mondo alla metà degli anni trenta cioè Ginevra è un capitale del mondo la società delle nazioni la pace la guerra i timori eccetera eccetera per cui il protagonista è un diplomatico inglese l'azione parte da Londra Herbert Marshall che è sposato con una meravigliosa donna che le fa fare stupenda figura che è Marlene Dietrich apparentemente perfetta ma questa donna però ha un segreto mentre il marito è assente sempre a Ginevra non so nel mondo lei prende addirittura un aereo per fare prima diciamo e andare a Parigi a Parigi frequenta frequenta una maison cioè una lussosissima casa di tolleranza la cui tenutaria è ovviamente un'emigre russa non si capisce bene se lei ma avesse avuto esperienze professionali in questa maison oppure ci fosse andata per sentire della musica perché naturalmente si fa anche musica molto 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 bella molto importante in questa in questa maison oltre a cenare eccetera non è un bordello facciamo in fretta una sveltina no 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 c'è un cerimoniale lei lì incontra Melvin Douglas che non conosce eccetera eccetera e c'è una storia con il bel Melvin Douglas che però un po' sproveduto non ha capito bene dove si trovi e c'è tutto uno scambio di persone un gioco di equivoci che ora non sto a narrare però sostanzialmente il film racconta il dark side di una gentildonna londinese la quale ha bisogno di andare talvolta in un in un bordello di lusso in una maison di lusso per essere se stessa e per dar sfogo al suo dark side ecco non è molto lewoodiano come tema a me ricorda Belle de Jour non so di Buñuel addirittura mi ricordate la Liliale meravigliosa Catherine De Neuve che ha sposata benissimo altra società parigina che ha bisogno però di pomeriggio di frequentare una casa di tolleranza come come professionista diciamo della casa non come cliente naturalmente eppure questo film passa forse per dire la Dietrich che ha un ruolo che le poteva si poteva se si diceva lei in una maniera particolare perché la Dietrich è torbida fondamentalmente torbida non Greta Garbo invece che è la protagonista del film successivo di Lubitsch che è Ninochka anche qui attualità di nuovo non è più la diplomazia della prima metà degli anni della metà degli anni frenetica degli anni 30 qui invece è lo stalinismo l'argomento che viene satireggiato ci si cala nella storia mantenendo però delle distanze enormi va bene sempre con lo spettatore in sala Greta Garbo non so non so se mi spiego una dea inaccessibile la più lontana più ancora di di Marlene Dietrich ora Ninochka che probabilmente tutti abbiamo visto sappiamo che che la Garbo interpreta la parte di una funzionaria del governo sovietico che viene in missione a Parigi per trattare la vendita no in realtà non per vedere perché dei precedenti emissari pasticcioni ammaldestri che sono stati inviati a Parigi perché non sono riusciti a vendere dei gioielli che erano stati espropriati durante la rivoluzione a una duchessa russa c'è una scena della stazione in cui i tre i tre emissari sovietici no Kopalski mi pare Bedinsky e l'altro non me lo ricordo che sono tre attori diciamo comici divertenti sono tre macchiette sostanzialmente e Buliakov mi pare sono molto in patema sono molto in ansia perché pensano che sia un uomo va bene il funzionario che dovrà bacchettarli c'è un rappel all'ordre e soprattutto fare in modo che questa vendita si concluda a un certo punto vedono un signore con un pizzetto va bene che somiglia moltissimo agli Ennin allora si illuminano e dicono ah sarà lui è uno dei nostri loro si avvicinano a quest'uomo il quale a un certo punto incontra un conoscente e invece di salutare con il pugno chiuso allunga il braccio alla maniera dei fascisti va bene e dei nazisti dice no 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 non è dei nostri dopo questa gag arriva arriva la arriva la Garbo che ha un severissimo tagliore in realtà di Adrian ma bene che era il suo costumista come Travis Benton era il costumista della Dietrich e Adrian le fa un vestito che sembra quasi un vestito metallico perché perché è un personaggio algido freddo la Garbo in questo in questo film deve fare una donna che non ha nessuna indulgenza per la debolezza o il desiderio degli uomini è tutta ideologia comunista sovietica se la realtà non si adegua all'idea sovietica tanto peggio per la realtà va bene non tanto peggio per l'idea sovietica ci sono le battute memorabili in questo per esempio Buljakov non so Koppaski diceva come va in Russia come va l'allusione alle purghe di Stalin dalla metà degli anni trenta e lei severissima dice siamo rimasti in meno ma sono rimasti i migliori e andiamo avanti così per tutto il tempo quindi c'è questa satira dello stalinismo ora poteva sembrare però un film un po' quando fu realizzato nel tra il trentotto e il trentanove del trentanove poteva sembrare un film un po' imbarazzante perché perché in fondo l'unione sovietica la Russia di Stalin e e tutta la Russia sovietica a partire dalla rivoluzione non era stata guardata dall'America con preoccupazione pensate a John Reed i dieci giorni che sconvolsero il mondo la prima cronaca che arriva su sulla rivoluzione d'ottobre di un americano per tutti gli anni trenta pensate a tutta la sinistra americana di tipo new yorkese guarda con un certo interesse all'unione sovietica nonostante va bene le purghe però insomma c'è una specie di tolleranza Roosevelt avrà forse un po' anche un debole nei confronti di di Stalin no? Pensate a Yalta o pensate a Posda ma insomma che in fondo Churchill non ha mai capito perché fosse così remissivo nei confronti di di Stalin insomma gli era probabilmente simpatico ora questa diciamo tra virgolette simpatia invece viene contrastata dalla satira del film tra l'altro della Metro Goldwyn Mayer perché come sappiamo la Garbo era la diva di riferimento della Metro Goldwyn Mayer mentre la Dietrich era la diva di riferimento antagonista della Paramount dato che Lubitsch ha sempre lavorato con la Paramount negli anni trenta questa volta per poter utilizzare la Garbo deve lavorare per la concorrenza per la viene prestato diciamo dalla Paramount alla Metro Goldwyn Mayer per lavorare con la Garbo ora però questo film diciamo Lubitsch è molto fortunato perché perché questo film esce scusate la pedanteria delle date ma se no non regge il discorso questo film esce nel novembre del milenovecentotrentanove ed è un e quando quando cioè si è già consumato uno scelus per la sinistra europea nell'agosto del trentanove c'è il patto di un'aggressione tra tra Unione sovietica e la Germania di Hitler ma come cioè si sono alleati e questo poi permette il primo settembre del trentanove l'invasione della Polonia naturalmente per cui uscendo nel novembre Lubitsch fa un film che era stato concepito da par suo antisovietico una satira del mondo sovietico che però torna straordinariamente di attualità nel novembre del trentanove quando inspiegabilmente Ribbentrop e Molotov firmano questi questi patti scelerati per gran parte della sinistra mondiale diciamo il film mette in luce che cosa è una specie di film di propaganda rovescio e cioè normalmente si parte da un personaggio apolitico magari anche spensierato il quale attraverso una peripezia prende coscienza dei valori della politica e magari anche della patria e finirà col militare eroicamente dalla parte giusta in questo caso invece partiamo da una una bolcevica tutta ad un pezzo va bene la quale scendendo a Parigi per vendere questi gioielli si fa progressivamente sedurre dal mondo luccicante della vie lumière dai cappellini dallo champagne eccetera eccetera dal bel seduttore nulla facente Melvin Douglas va bene e diventerà finalmente che cosa semplicemente ma mica tanto una donna una donna capace di ridere ora Lubyce a buon gioco nel diciamo disgelare la garbo la garbo figura nordica svedese ma bene che ha grande successo ma a Hollywood ma interpretando sempre dei film dei film in cui lei non è mai un'americana di origine è sempre una straniera dopo aver fatto dei grandi film melodrammatici se non tragici non so Anna Carienina Margherita Gaultier Matahari eccetera eccetera dove inevitabilmente poi alla fine deve morire quasi sempre muore in questi film almeno degli anni trenta invece diventare una commediante cioè un'attrice da commedia era un passo assolutamente arduo probabilmente la garbo capisce che un certo un tempo è finito non può più riproporre sempre lo stesso cliché deve diventare un'attrice brillante quindi una specie di rivoluzione copernicana il contrario di quello che aveva sempre fatto prima quindi diventare una donna più avvicinabile una donna che ride va bene non Margherita Gaultier che muore in questa distanza del mito da grande attrice Eleonora Duse Sara Bernardo siamo nelle vette del teatro dell'ottocento diventare donna significa essere debole c'è un elogio della debolezza c'è un elogio del piacere dell'abbandono anche al piacere perché è una componente fondamentale dell'essere uomini e dell'essere donne non essere tutte di un pezzo ora l'ultimo film di cui volevo parlarvi è un film invece del 1940 42 che è vogliamo vivere to be or not to be anche qui c'è un elemento che può far riferimento alla cronaca e c'è e qual è il riferimento alla cronaca questo film viene girato verso la fine del 1941 ed esce nel nei primi mesi nel gennaio del 1942 col senno di poi noi potremmo dire forse proprio nei giorni in cui si tiene la cosiddetta conferenza di Vansè in cui si progetta l'olocausto cioè Auschwitz lo sterminio di massa ora poteva sembrare col senno di poi naturalmente se noi facciamo questa considerazione potrebbe sembrare non dico di cattivo gusto ma totalmente inopportuno fare un film comico brillante diciamo su degli attori ebrei chiaramente ebrei anche se non si dice esplicitamente che lavorano in Polonia a Varsavia nel momento in cui nella finzione del film arrivano arrivano i tedeschi nel settembre del del 39 poteva sembrare irrispettoso e irriverente può essere questo può essere però lui bisogna poteva sapere quello che si stava progettando forse nessuno lo sapeva a parte Heinrich e quelli che partecipano Eichmann in cui erano presenti alla conferenza di di cioè col senno di poi ecco che magari potrebbe crearci un certo imbarazzo però però questo film rientra un po' nei film chiamiamoli di propaganda anzi antinazista che avevano visto come esempio più clamoroso naturalmente il grande dittatore di chaplin nel 39 40 però c'erano stati anche degli altri film delle spy story insomma di fatto antinazisti Hollywood diciamo scende in campo molto lentamente contro il nazismo molto lentamente però a opera di registi isolati o contro il fascismo non vuole perdere i mercati ha anche questo tipo di considerazione e nemmeno il mercato interno dei tedeschi o degli italiani esagerando o facendo dei film antifascisti o antitedeschi per esempio Hitchcock fa non so il prigioniero di Amsterdam è un film antinazista ma diciamo è una è una spy story duello mortale Fritz Lang dove si suppone che qualcuno potrebbe uno aveva la possibilità di uccidere Hitler ma ma non ce l'ha fatta durante una battuta di caccia ma non è stato possibile però questi erano dei film che avevano appunto una tonalità tra il noir e la spy story Lubici invece sceglie dichiaratamente un registro comico e i protagonisti di 2B o non 2B sono degli attori sono degli attori abbastanza umani forse troppo umani l'elemento della debolezza che avevamo visto nella garbo la garbo ride dicevano dicevano le locandine che pubblicizzavano il film finalmente ride è diventato una donna non è più una dea in questo caso invece i protagonisti sono dei guitti cioè degli attori insomma di non eccelso valore che però hanno un'autostima altissima di se stessi e della propria missione artistica ora loro si stanno prodigando a Varsavia nei primi giorni che precedono l'invasione da parte dei tedeschi si stanno preparando a recitare una farsa anti antitedesca in cui c'è un attore che è travestito da Hitler che passeggia che passeggia per le strade di Varsavia guardando con un certo disprezzo e disgusto la vetrina di un salumiere in cui ci sono un sacco di di goulash di cose del genere insomma dei maiali salami eccetera eccetera perché perché pare che Hitler non so fosse vegetariano vabbè ora a un certo punto la scena è all'interno di un palazzo governativo entrano i gerarchi nazisti che salutano con Hitler e si salutano con Hitler per ultimo entra Hitler entra e lui dice Ail a me a questo punto scoppia una risata no lo so e la recita viene interrotta quello che abbiamo visto non è un film non è il film ma è invece una una recita va bene in cui che viene svelata così tutto il film è basato su questo su questo questo sistema tra la finzione scenica la realtà diciamo la realtà dell'invasione nazista e il gioco che questi guitti fanno diciamo elaborando un loro modo di resistere ma attraverso le armi che hanno a disposizione cioè le armi del teatro quindi è un'esaltazione in fondo del teatro e della teatralità anche se condotta da attori come dicevo prima deboli che hanno una grande considerazione di sé esagerata ma che anche nel caso del primo attore Jack Benny nei confronti di Carol Lombard che fa la moglie primattrice primattore e primattrice e il Jack Benny è talmente geloso di Carol Lombard che non può trattenersi non può trattenersi dal narcisismo ma non può nemmeno trattenersi dalla gelosia ad esempio quando a un certo punto si trova in un ufficio della Gestapo e lui sta compiendo una missione perché si cala nel personaggio di un collaborazionista con i tedeschi un collaborazionista polacco però non ce la fa a non dire ma lei conosce un grande un grande grande attore che si chiama Josef Tura e a tutti quelli che incontra fa questa domanda naturalmente tutti gli rispondono che non lo conoscono invece il il colonnello tedesco dice sì l'ho visto recitare faceva a Shakespeare quello che noi facciamo alla Polonia ma bene ecco questo questo è il tono del film che è dato attraverso questo scoppiettio continuo incessante incessante di battute ma anche di situazioni che sono per esempio come si fa a far capire che Jack Benny il primo attore è un cornuto allora lui è tutto compreso nella parte di Hamleto ecco perché il film si chiama To be or not to be e lui entra in scena si raccoglie dentro se stesso va bene per recitare il celebre monologo silenzio in sala tutti attendono essere o non essere si avanza in proscenio e attacca il monologo dopo aver detto to be or not to be vede dalla seconda fila alzarsi un prestante avviatore polacco che si alza e se ne va per cui lui che cosa pensa quando torna dalla moglie pensa che lui sia un attore finito se qualcuno si alza durante il suo pezzo il suo cavallo di battaglia che è il monologo di Hamleto ma lui non sa che è la moglie che ha dato appuntamento in camerino al bel avviatore polacco e gliel'ha dato proprio nel momento in cui il marito sta recitando il lungo monologo di Hamleto quindi c'è c'è tutto questo questo gioco straordinario quando Carol Lombard anche proprio verbale quando Carol Lombard è affascinata con dalle parole dell'ingenuo avviatore polacco che dice che lui è in grado volando di scaricare quintali di bombe di bombe va bene e lei dice e lei rimane tutta estasiata va bene da questa potenza chiamiamola virile insomma bellico virile del del bel avviatore ecco tutto il film è congegnato straordinariamente su questo su questo sistema di allusività e delusività che sono poi i meccanismi del comico ricorrente in 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 Lubic va bene io però vorrei fermarmi qui perché perché ho già parlato per quasi un'ora un'ora e mezzo anche se Lubice mi mi appassiona ma non so voi ecco magari mi state annoiato e vorrei concludere con un citando un film uno degli ultimi film che Lubice gira negli anni quaranta quindi durante la guerra che si chiama Il cielo può attendere che ed è ed è la storia di un di un Don Giovanni è una specie di film testamento eh chiaramente a Lubice piacevano le donne questo non c'è dubbio siamo partiti dal commesso intraprendente e questo Don Giovanni muore il film è tutto in flashback e il tempo presente è quello dell'aldilà dove c'è una specie di diavolo di mefistofile guardiano che deve decidere dove sistemare nell'aldilà il protagonista del film che dona mesce l'attore che interpreta questa parte e lui ed è incerto perché quindi racconta tutta la sua vita al al diavolo il quale alla fine alla fine lo assolve diciamo lo assolve e pensa che non merita l'inferno merita forse qualche piano più alto non dico proprio il paradiso perché in fondo sono dei peccati veniali Lubice muore a 55 anni per un attacco cardiaco e i maliziosi dicono che ma forse era appartato con qualcuna non lo so non 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 sappiamo dire certo certo che un possibile epitafio potremmo ricavarlo da una battuta di Melvin Douglas in Ninochka Ninochka severissima sempre sempre attenta alla missione va bene alla missione del cambiare il mondo domanda al viveur al bon vivant Melvin Douglas ma tu che cosa hai fatto per l'umanità e Melvin Douglas con una battuta che oggi suona assolutamente politicamente scorretta risponde ma per gli uomini non molto ma per le donne spero di aver fatto qualcosa vi ringrazio arrivederci arrivederci grazie dell'attenzione